Nel corpo dove tutto ha un prezzo, ero un mendicante. Perché leggi poesie? Ogni parola ha un significato. Non hai mai baciato nessuno, è vero? Ho conosciuto il comandante e sua moglie. Incarnerò il più grande valore della nostra nazione, la libertà e la volontà di difenderla. Tua madre è una leggenda. Mia madre non c'entra con noi. Ma è estenuante essere sua madre e suo padre contemporaneamente. Da quanto tempo siete amiche? Sono i nostri vicini, cerco di essere gentile. Loro pensano che siamo strani. Ti dà fastidio? Mi tratti come uno stupido che non sa niente. Ma sei solo una ragazzina. Vuoi ancora fare soldato? Forse. E tuo padre lo sa che quando dici soldato... ...intendi soldato maschio? Tutte e due ci disprezzano. Nessuno può mancarmi di rispetto. Non avevo in mente questo per te. Sorpresa, io esisto fuori dalla tua mente. Mio padre era musulmano, è vero? A quante cose hai intenzione di voltare le spalle nella tua vita, mamma? Noi sogniamo la pace. Tutti noi. Dopo tanti anni non so ancora se ti odio o no. Che ci sta succedendo? Con noi non ci stai più. Forse hai ragione. Non è più come prima. E' tempo di cambiare questo mondo. Io e te. Qui e ora. Noi stessi. Ti piace così? Come un maschio? Non lo so. O sei sempre tu? Noi stessi. Noi stessi. Noi stessi. Noi stessi. Perfetto.